Signori, collezioni! Quante collezioni sono presenti nello sconfinato universo dei TCG? Pressoché infinite. One Piece, Magic, Pokémon, Lorcan, Yu-Gi-Oh! A volte sembra davvero impossibile potersi avvicinare a questo mondo senza spendere un patrimonio. Ma non è del tutto esatto. Perciò ho fatto un accesso alla biblioteca, dove ho trovato un qualcosa che farà al caso di ogni nuovo appassionato che vorrà muovere i primi passi in questa branca dei GGC. Benvenuti quindi in un nuovo appuntamento della rubrica Colleziono da Zero. In questo episodio ho voluto arricchire di mio gli scaffali aggiungendo un tomo interessante, ovvero la prima guida in Italia per iniziare a collezionare i trading car game. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Colleziono da Zero è la guida pratica che aiuterà ogni nuovo collezionista o curioso che vuole iniziare la propria raccolta ad orientarsi nello sconfinato universo dei TCG. Partendo dalle radici antiche che vedono i primi giochi di carte nascere attorno al IX secolo nella Cina imperiale, passando per gli sviluppi che poi hanno portato alla nascita di Magic the Gathering fino ai giorni d'oggi, il lettore ripercorrerà la storia che ha visto maturare il concetto di giochi di carte collezionabili che tutti noi conosciamo, comprendendo inoltre quali sono le basi del collezionismo, con tutte le sue numerose sfaccettature, fino ad arrivare ad un vero e proprio Bade Mecum, che vi aiuterà a sviluppare strategie avanzate per massimizzare il valore della vostra raccolta. In più si tratteranno temi specifici, come condividere ed apprendere nuove nozioni dalle community sia locali che online, comprendere il mercato dei TCG e come valutare le carte che vi ritroverete a trattare. In Colleziona da Zero troverete i consigli utili per muovere i primi passi nel mondo del collezionismo, una panoramica sulle tecniche di questo mondo e come reperire intere raccolte attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non avete esperienza nel settore. Ok Arconte, ma ho notato una cosa, non ci sono immagini dalle quali capire i concetti di cui si sta parlando, ma posso andare a cercare ogni argomento che non mi è chiaro durante la lettura? Niente paura, a pagina 1 sarà presente un codice QR che vi riporterà dritti ad una playlist privata creata appositamente per il libro, dove saranno presenti tutti i video dedicati ai concetti che verranno contraddistinti con l'icona creata per l'evenienza. In questo modo potrete leggere e tenere allo stesso momento aperta la playlist sul vostro cellulare, così da avere un'esperienza quanto più interattiva ed immersiva possibile che vi farà godere a pieno il viaggio nel mondo dei TCG. Disponibile da oggi su Amazon, potrete recuperare la vostra copia personale attraverso il link che vi lascerò sia in descrizione che nel commento fissato in alto. Prima di concludere volevo ringraziare Make-A-Wish per aver realizzato la prefazione, Mirko Milone per la grafica di copertina, Emanuele Mazzola per l'editing e tutti coloro che mi hanno dato una mano a portare il progetto dal piano delle idee a quello reale. Bene, credo che tornerò a sfogliare qualche tomo in biblioteca, andando alla ricerca di nuove raccolte adatte a chi vuole iniziare il viaggio in questo fantastico mondo. Di sicuro riuscirò a trovare qualcosa di interessante che stuzzicherà sia la mia che la vostra attenzione. Beh, io vado, ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena avrò scoperto qualcosa di interessante da mostrarvi. A presto!